vi sono mancato eh salve a tutti ragazzi sono sempre a mezzo e benvenuti in questo nuovo video finalmente mi faccio rivedere ci sono un po' di cose che vi devo dire la prima è mi dispiace veramente mi dispiace per questo periodo che è durato 2-3 settimane dove purtroppo non ho fatto video diciamo innovativi, nuovi, freschi ho caricato sempre gli stessi, i soliti video di FIFA e Dead Space per comunque cercare di finire quella serie e comunque perché il World 2 Championship deve andare avanti voi vi sarete fatti delle domande e io adesso vi darò delle risposte allora perché sono mancato così tanto tempo? sono mancato così tanto tempo perché ho trovato lavoro faccio un tirocinio, lavoro 36 ore a settimana e mi fanno veramente sgobbare tanto mi fanno veramente lavorare tanto però insomma per guadagnare qualche soldo ci sta alla fine solo che questo mi prende gran parte della giornata perché mi hanno fatto degli orari davvero tosti mi tagliono la metà delle giornate e quando torno a casa sono sfatto sono veramente sfatto proprio fisicamente non riesco non accendo il computer, non riesco a giocare perché appena torno vado a letto la mattina dopo mi sveglio studio qualcosa e devo subito tornare a lavorare e quindi proprio per questo non ho tempo proprio fisicamente di fare altri video di fare altre serie, di iniziare altre serie non ho proprio neanche il tempo fisico per giocare comunque adesso ci sto prendendo un po' i ritmi e ogni tanto qualche minuto me lo ritaglio ora non so quando uscirà questo video probabilmente la serie di Dive Space sarà già finita io ho a media di fare qualcos'altro però vi chiedo comunque sempre un po' di comprensione perché non smetto, non smetto purtroppo semplicemente mi manca il tempo e sto cercando di ritagliarmelo c'è una serie, già qualche un paio, tre episodi molto diversa dal solito già pronta, io la caricherò credo che la porterò avanti fino alla fine e poi niente, adesso arriveranno altri video perché prima che trovassi lavoro ho giocato ad altri giochi quindi arriveranno video sui giochi che ho giocato arriveranno le uscite del mese e anche il multi-unboxing perché ho comprato ho comprato con la speranza di tornare a giocare ho comprato anche altri giochi verrà, arriveranno altri fuck you time comunque non vi preoccupate semplicemente sono mancato per la mancanza di tempo ovviamente perché ho iniziato a lavorare il tempo scarseggia e soprattutto faccio fatica se devo fare un video del cazzo sinceramente ragazzi ve lo dico sinceramente non 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 lo faccio non lo faccio se devo fare un video del cazzo non lo faccio e niente fra una settimana ordino l'elgato quindi potrei registrare anche su PS4 ditemi qua sotto qualche serie che magari vi piacerebbe vedere sul mio canale io avevo pensato a Dark Souls 2 qualche episodio divertente e tanti altri giochi tanti altri giochi perché ce ne sono acquistano anche per PS4 quindi signori non non ci preoccupiamo non ci preoccupiamo perché comunque di video da fare ce ne sono e ce ne saranno quindi signori consigliatemi sotto questo video qualche gioco qualche serie non consigliatemi FIFA e che cazzo ne so perché FIFA lo faccio già se ho tempo faccio qualcosa di diverso da FIFA e niente fatemi veramente dei consigli consigliatemi che serie iniziare che serie vorreste vedere magari così posso anche accontentarvi tutti in più vi dico lasciate qua sotto le domande per il FAQ Time perché raccatterò quelle a cui non ho risposto l'anno scorso quelle sotto al video e ne prenderò delle altre qua sotto questo video e farò il nuovo FAQ Time ragazzi spero che voi mi capiate la vostra comprensione credo che comunque la settimana che arriva dopo questo video le cose torneranno comunque nella normalità lo spero ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un mi piace un commento un consiglio e alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti